Confartigianato Padova è dell'idea che la salute pubblica e la vita delle persone vengano prima di tutto. In una crisi inedita come quella che stiamo vivendo riteniamo che servano decisioni univoche e dettate da valutazioni scientifiche. Dopo questo appello che facciamo come organizzazione di rappresentanza di decine di migliaia di imprese è che ci sia una forte attenzione nei confronti delle imprese. Lo affermiamo come Confartigianato Imprese Padova che le nostre imprese come prima preoccupazione hanno dovuto mettere in sicurezza i propri dipendenti. Da qui il ricorso alle ferie, alla Cassa Integrazione Inderoga o alla bilateralità FSBA. A tal proposito riteniamo che i fondi stanziati dal Governo per quanto riguarda questi ammortizzatori sociali siano insufficienti. Chiediamo al Governo ulteriori stanziamenti e chiediamo ulteriormente che dovrà esserci urgentemente lo stanziamento di risorse anche per il sostegno ai lavoratori autonomi.